Ciao a tutti, io sono LittleGreySimmer e oggi siamo qui con un nuovissimo episodio della Carly Legacy. Bene amici, eccoci qui ritornati con questo nuovissimo episodio della Carly Legacy. Come appunto ci eravamo lasciati l'ultima volta, avevamo passato il primo giorno di campeggio qui a Granite Falls. Oggi è il secondo giorno, è mattina e Dustin è stato il primo a svegliarsi praticamente in questa mattinata. Lottie sta ancora dormendo, povera, perché ieri l'ho messa a farle leggere fino a tardi il libro appunto di erboristeria proprio per portare avanti la sua ispirazione. Allora, prima di mangiare e di farti fare colazione, raccoglimi questi insetti. La nostra missione di oggi praticamente è quella di andare... Oh mio Dio! Oh mio Dio, che carini questi cagnolini! Oddio, comunque stavo dicendo. La missione di oggi è quella di andare a trovare l'eremita e a stringere amicizia con quest'ultimo o quest'ultima. Ci sono delle coccinelle, adoro! Facciamo un po', diciamo, del lavoro anche per Lotti, perché momentaneamente l'ho aggiunto qui all'interno della famiglia, anche perché appunto ci serve. Ma se riempissimo delle ciotole per i cagnolini... Riempiamo le ciotole, perché a quanto ho capito forse questo lotto ha il tratto per i cagli... Amore, ma no, ma che bellino questo cane! Direi che possiamo far svegliare Lotti, anche perché povera sta morendo di fame. Creiamo magari... Allora, facciamo... Chiamo a tavola... Oppure, anzi, aspettiamo che esca dalla tenda... Esci dalla tenda... Buongiorno, mia cara! Altre scelte, azioni, forma un gruppo... Formiamo un gruppo con Dustin e facciamo insieme colazione... Chi è? Lotti, nel mondo degli affari la reputazione è tutto. Non conta chi sei, ma chi conosce. Tu conosci la gente giusta. Ti proponiamo di diventare una nostra responsabile regionale, rango 5. Saremmo felici se iniziassi subito. E no, guarda, io ho la mia carriera e sto benissimo così. Allora, prendi una porzione insieme e mangiate. Fate colazione insieme. Lei cosa ha voglia di fare? Ma magari questo togliamolo. Ah, tra l'altro lei vuole comprare un teatro di marionette. Perché appunto è una, diciamo, una simile di famiglia. Ragazzi, ma questo cagnolino che ci segue? Diamogli da mangiare. Dai del cibo a Kelly. Che poi anche il nome è carinissimo. Ma è adulto? Che carino. Oh mio Dio, che carino. Ma è maschio o femmina? No, è una femmina. Lotti è diventata una conoscente di Kelly. Amore. Ragazzi, ma sto pensando di adottare un cagnolino. Cioè, guardatelo. Che occhietti. Gioco un po' e poi ci dirigiamo. Appunto qui. Come vedete lui Dustin prova a parlare con lei. Cioè, guardate lui come la guarda. E tra l'altro, guardate un po' cosa mi è spuntato tra i desideri di Dustin. A parte essere amichevole, ma sposati con Lotti. Cioè, è proprio intenzionato a sposarlo. Cioè, io perché voglio fare appunto una cerimonia un po' carina. Perché se no l'avrei fatti sposare proprio direttamente qui, onestamente. Però voglio fare le cose come si deve. Voglio fare un matrimonio più carino, un po' più dolce. Allora, dato che comunque tu devi andare in bagno. Che cosa succede? No, aspetta. Invece di prendere dell'acqua, vai in bagno. Vai proprio qui. Usami il bagno. Ti fai anche una doccia. E poi andiamo. Praticamente, usa il bagno e ti fai una doccia anche tu. E andiamo a fare questa escursione nel bosco. Tra l'altro, vediamo se ci sono insetti. Cosa sono questi insetti? Credo che siano coccinelle. Allora, oggi voglio provare ad arrivare a livello 4 di erboristeria. E cucinare due piatti di scarabèi su un fuoco da campeggio. Soprattutto mangiare dieci piante. Madonna, ma sono tutti che puzzano questi cagnolini. Ok, tu sei pronta. Vammi a raccogliere gli insetti. Credo che anche Dustin comunque sia pronto. Vammi a raccogliere gli insetti. Poi devo vedere più tardi, magari lì in domani, se le piante invernali crescono. Perfetto. Allora, andiamo nel bosco perché appunto dobbiamo completare questa missione. esplora il bosco. E se comprassimo anche qualcosa, andiamo prima a comprare delle provviste. E poi esploriamo il bosco insieme. Tu, Dustin, vieni qui. Allora, vediamo cosa possiamo comprare. La cipolla giù la abbiamo. Ma se comprassimo un altro crescifrutto? Ma sì, compriamo un crescifrutto. Poi lo piantiamo così ci porta un sacco di soldi. Le guerre delle mantidi. Magari possiamo regalarlo a Dustin, dato che a lui comunque piace leggere. E cosa possiamo... La mela già ce l'abbiamo. Un pomodoro. Lo abbiamo i pomodori? Non lo so. Comunque acquistiamo anche il prezzemolo perché potrebbe servirci. La salvia già l'abbiamo. No. E basta così. Quindi mi sa che possiamo andare nel bosco. Eccoci arrivati qui nel bosco. Intanto cerchiamo di fare un qualcosa di carino insieme a Lottie. Allora, Dustin voleva essere amichevole con Lottie. Magari sfoggiamo i muscoli e facciamo amichevole. Abbracciamola e soprattutto la flirtiamo un po' con lei. E le diamo un bel bacio. Anche perché praticamente oggi l'abbiamo calcolata poco, la povera Lottie. Che carini. Io veramente li adoro comunque. Li scippo tantissimo. E poi andiamo a prendere degli insetti perché guardate un po' è pieno. Catturo insetti e vado alla ricerca di piante ragazzi. Perché ho bisogno di piante per i decotti. Salutari. Dustin che le ha detto ti amo e lei risponde con Questo è l'amore che ho sempre voluto e che spero sia per sempre. Lottie, ma che romantica. Allora, il mio obiettivo adesso è trovare l'entrata per... Oddio, ho trovato tra l'altro la salvia. Potremmo anche prenderla, però non so se forse ho trovato degli insetti. Altri insetti importanti che non ne ho mai visto tra l'altro. Mentre io sto cercando, appunto, l'entrata. Cioè non la trovo, aiuto. Queste potrebbero servirci questi insetti comunque. Tu Dustin, poi vienimi qui pure. Lei ha preso tre lucciole, perfetto. Ah, qui ci sono tra l'altro altri insetti. Questi li potresti prendere tu mentre cerco questa entrata. Aiuto ragazzi, ma io qua mi sto perdendo. Aiutatemi. No vabbè ragazzi, sono riuscita a trovare l'entrata per andare a trovare l'eremita. Ce l'ho fatta finalmente. E questa entrata qui. Mamma mia, dovrei proprio segnarmi il posto. Ci vorrebbe una mappa perché è davvero difficilissimo trovarlo ogni volta. Mamma mia, vediamo se qui ci sono degli insettini a terra. Perché solitamente ci sono degli insetti qui all'entrata. Forse ne ho vissati un paio? No, forse mi sbagliavo. Lui ha guadagnato 144 simoleon nel suo giorno libero. Perfetto. Eccola, vedo una Lotti felice in lontananza. E lei tra l'altro vuole preparare un rimedio erboristico. Cosa perfetta perché appunto ci serve. Oh, e si sta baciando anche Dustin. Ottimo direi. Niente ragazzi, io li amo. Allora facciamo una cosa. No, facciamo una cosa. No, non fare aeromanzia. Sempre che mi devono fare... Oh. Azioni, forma un gruppo insieme a Dustin. Che sta facendo? Sta facendo aeromanzia. Anche oggi mi ascoltano domani. E esploriamo questa entrata. Sono curiosissima. Vabbè, tu Dustin fai aeromanzia. Fissato che vuole fare aeromanzia. Voglio fare una foto. Esplorazione dei rovi. Circondata da roveti, spine e quasi sicuramente pericoli, Lotti può prendere una sola decisione. Andare avanti o ritirarsi dall'avventura. Andiamo avanti. Mentre Lotti attraversa il fogliame con coraggio intrepido, si imbatte in un ruscello gorgogliante. Deve fermarsi a pescare? Ma no, continuiamo a camminare. Mentre Lotti marcia su di morale nella boscaglia, agitando le braccia e cantando canzoni, un oggetto scintillante attira la sua attenzione. Ah, che tentazione. Ma no, ignoriamo l'oggetto. Andiamo avanti. Mamma mia, ma quanto ci vuole per arrivare in questa... Tanto lui si sta divertendo a fare romanzia d'oro. Lotti ha attraversato un muro di fogliame fino a scoprire un anto sacro nel bel mezzo della foresta. All'interno si trova un sim misterioso. Viaggia verso il sim. Vuoi mandare Lotti nel bosco fitto? Ovvio! Eccoci qui nella casa dell'eremita. Ce l'abbiamo fatta. Portiamo qui Dustin. No, lei subito mi fa a romanzia. Facciamo un gruppo di nuovo perché non voglio che venandate ognuno per i fatti propri. E andiamo a dare un'occhiata a questo posto. Vediamo un po' cosa possiamo trovare perché sembra un posto molto molto carino. E soprattutto se troviamo l'eremita nei dintorni e se ci sono tra l'altro anche piante nuove. Perché qui non è che ci siano piante Granite Falls, ci sono piante piuttosto viste. Oh, ho trovato la casa dell'eremita. Intanto, venite qui, vai qui insieme. Lotti, abbiamo saputo che sei molto cerebrale. Potresti diventare un ottimo guru tecnologico con la tua reputazione e la tua... No, ragazzi, no, grazie mille, ma... No, anche no. Che bella questa casetta dell'eremita. È bellissima. Madonna, ma non c'è l'eremita? Ma dove... Ah, eccole, è una signora. Amber Summers. Oh, ma che bel taglio di capelli, signora. Veniamo qui e soprattutto facciamo una presentazione amichevole. Dov'è? Dove sta andando, signora? Presentazione allegra. Signora? Dove va? Signora? Oddio, non credo proprio che comunque la signora apprezzi Lotti. Questa cosa non mi piace, mannaggia. Ma salve, signora, buongiorno. Chiacchieriamo un po'. Rallegramola. Entusiasmati per l'aria aperta. Complimenta, magari, non lo so, condividi i consigli per amanti che sta facendo. Niente, lui è fissato comunque che deve fare le sculture. Credo proprio che potrebbe essere un suo hobby questo. Quindi magari in futuro, quando vivranno insieme, potrà fare... Oddio, che succede? Perché la signora è scappata? Vediamo un po' cosa pensa Amber. Allora, prima impressione strana. Pensa appunto che sia strana. A primo colpo, Lotti pensa che questo sim sia piuttosto strano. Invece la nostra carissima Eremita pensa che Lotti sia fastidiosa. Beh, Amber ha appena incontrato questo sim, ma lo trova già estremamente fastidioso. Oh no! Vabbè, allora intanto prendiamoci qui le piante che ha. Cos'è? Pianta di salvia? No, già l'abbiamo, mannaggia. Mi sa che abbiamo tutto qui. Pianta di... non c'è scritto... No, ragazzi, c'è spuglio di fragole! Mannaggia! Ci sono altre piante qui? C'è spuglio di more. Offri consigli di rilassamento mentale così dal nulla. Poi, vabbè, altre scelte amichevole. Adula, magari. Poi le chiediamo della carriera. Dobbiamo provare a stringere amicizia comunque. Oh, ragazzi, ho visto degli insetti. Cattura un attimo degli insetti mentre sei con lei e... Non lo so, chiedi della sua giornata, impara a conoscere e soprattutto come sta. Oddio, ma lui sta costruendo a manetta! Ma che bella scultura però! Bravo! Ah, ma l'aria aperta. Intanto volevo vedere se appunto ci fossero qui delle piante in particolare. Le cose potrebbero andare decisamente meglio, però non dovrei... non mi lamento. Eh, ti capisco. Poi, tra l'altro, vivere qui da sola. Osserva, c'è spuglio di more? No, ma già le more le abbiamo trovate. Non c'è nient'altro di interessante, forse, a parte questo. Lui qui si sta divertendo a fare queste sculture di falegnameria. Niente, proprio, lui ha trovato la sua pace. Mi sa che come hobby ha questo, anche perché Dustin è un tuttofare. Noi prendiamo gli insetti perché ci possono servire, come vi ho già detto. E magari potremmo pescare insieme a Amber. Peschiamo insieme ad Amber. Poi ha preso due libellule, perfetto. Lei, comunque, tra l'altro, è molto felice. E, a quanto ho capito, le piace l'autunno. Sembra che vada matta, appunto, per l'autunno. Oddio, ho visto altri insetti. Dustin, ma se mi catturassi questi insetti? Eccoci. Lei, tra l'altro, è molto felice. Qui, Lotti, di stringere amicizia. Andiamo un po'. Ah, ma siamo amici con l'eremita. Oddio. Tre falene l'una mi ha preso Dustin. E lei mi ha preso delle cose particolari, gamberetto blu. E poi catturami anche questi insetti. Stiamo prendendo un sacco di insetti qui. I grandi spazi aperti. Lotti nutre la ferma convinzione che non ci sia niente di meglio del sole sulla pelle, del ventone i capelli, dei suoni della natura e della luce lunare. Adoro. Allora, intanto, facciamo una cosa. Sblocchiamola, perché appunto si era un po' bagatina. Allora, dato che siamo comunque amici, forse dovremmo, per ottenere la ricetta del... Parla di erboristeria, ok. Forse per ottenere la ricetta dovremmo stringere un bel po' di amicizia. Ok, abbiamo parlato di erboristeria con Ember. Poi esprimiamo ammirazione per tutto ciò che fa, per, diciamo, per le cose appunto per la casa che ha qui in mezzo al bosco, proprio per tutto. E, tra l'altro, volevo appunto vedere, complimentiamole anche la personalità, esprimi, diciamo, discuti degli interessi, poi vantati di essere campionessa di Carrie, parla del fuoco, vabbè, facciamole un sacco di cose. Intanto, Dustin, tu che stai facendo? Mi stai aggiungendo un ciocco e, tra l'altro, mi sta ammirando le stelle. Poi li facciamo sedere tutti qui, magari. Ok, Ember è diventata buona amica di Lottie. Perfetto. Adesso credo proprio che possiamo chiedergli, possiamo chiederle appunto la ricetta, credo, no? Ok, ma se arrostissimo invita a passare del tempo insieme a Dustin ed Ember e mangiassimo gli scarabèi che tanto parlano, di cui tanto parlano, praticamente. Arrostisci scarabèi. Tanto tu devi mangiare comunque. E tu magari potresti arrostirti delle toffolette. Mamma mia, che schifo, stanno cucinando questi scarabèi. Ma poi non vi piace, vero, sedervi qui insieme? Lui, tra l'altro, sta pensando all'incendio dell'ultima volta e lei sta andando da qualche parte, amici, ma io onestamente pensavo che ci desse dei consigli sull'erboristeria. Ok, lei si è arrostita. Il piatto di scarabèi aiuto, che schifo! Chifo! Aiuto! Ragazzi, aiuto! Che cos'è questa cosa? Aiuto! Mamma mia! Deve farlo purtroppo per l'aspirazione, quindi cucina due piatti di scarabèi su un fuoco da campeggio. Qui sta mangiando le toffolette. Poi ovviamente se ha ancora fame gliele faccio cucinare un altro, anche perché aiuto. Ah, lei mi sa che sta preparando qualche rimedio erboristico, poi direi di andare qui insieme. Non so cosa... Ecco, è spuntato, è spuntata l'aspirazione, impara una ricetta di erboristeria. Vediamo un po'. Tipo, mi scusi, ma ha una ricetta appunto di erboristeria da consigliarci? Vediamo un po' cosa ci risponde. Sai, io mi sono recentemente interessata di erboristeria e vorrei sapere se ha qualche segreto da consigliarmi. Lotti ha imparato la ricetta di del fertilizzante per infusione di funghi dell'eremita. Bellissimo! Adoro! Meraviglia, tra l'altro lei mi deve andare in bagno. Fai un test di gravidanza? Amici, aiuto, ma in che senso fai un test di gravidanza? Non è che mi hanno fatto un fichi fichi rischioso senza inautomatico, perché purtroppo mi succede sempre con la slice of life. Dovremmo prendere delle lezioni insieme qualche volta. Vammi in bagno, Lotti, perché a questo punto, cioè, non capisco. Oh, povera, non è incinta! E vabbè, pensavo già che dovessimo dare inizio al nostro reade povera. Mamma mia, ma cos'è questo rimedio? Decotto distensivo? Ma senti, ma mettitelo nell'inventario. No, concepimento fallito. A volte allargare una famiglia può essere più difficile di quanto si pensasse. Povera, tesoro. Povera. Forse glielo sta dicendo. Magari vorrà appunto un abbraccio affettuoso da parte di Dustin, perché appunto al momento si sente un po' sovraffatta da ciò che è successo. Però non gli dirà nulla. Non gli dirà assolutamente nulla. Direi che possiamo tornare a casa, perché la nostra missione è appunto di stringere amicizia con l'eremita. E tra l'altro tutto il resto l'abbiamo fatta. Quindi ci troviamo già a buon punto con questa generazione. Direi che possiamo tornare al nostro alloggio. Salutiamo l'eremita e andiamo via. Lei mi sta grigliando un pollo senza motivo. Proprio, ma davvero, senza motivo. Tra l'altro potremmo anche mangiare questo. Cioè, posso sveggiarlo da qualche... oddio. Dei pipistrelli la stanno attaccando. No, ti prego, ti prego, aiuto che ansia. Stavo vedendo appunto se ci fossero qui dei cagnolini nelle vicinanze, ma potremmo magari fare una cosa. Ovvero provare a fare... cos'è? Ancora pipistrelli. No, ragazzi, ma povera. Potremmo provare a fare un fichi fichi per rilassarci insieme a Dustin. Lui come sta? Povero, lui deve andare pure in bagno. E andare pure in bagno, povero. Poi ci occupiamo anche di lui. Perché povero deve andare in bagno tutto, eccetera. E amici, con questa immagine di questi due che comunque fanno fichi fichi nella tenda, direi che possiamo concludere qui l'episodio. Purtroppo, non so per quale motivo, comunque abbiano... Credo proprio che questi due, diciamo, abbiano fatto un fichi fichi rischioso a mia insaputa. Perché purtroppo la slice of life ha anche questa cosa di far fare fichi fichi in automatico, senza che io, diciamo, senza il mio intervento. E da un lato è una cosa bella, ma da un lato è una cosa brutta, perché a questo ora appunto avremmo avuto un'erede in arrivo senza neanche aver fatto un matrimonio, che poi tra l'altro non ci sarebbe neanche nulla di male, giusto? Però volevo fare le cose appunto carine, piano piano. La cosa che un po' mi ha lasciato, diciamo, triste, un po' amoreggiata, è stato appunto il fatto che il concepimento sia fallito. Noi, come vi avevo detto nel precedente episodio, Lotti aveva appunto intenzione di avere una grande famiglia, ma se non può in realtà concepire figli, come faremo se non riuscirà a rimanere mai incinta? Potremmo adottarli, è vero. Però ovviamente Lotti credo proprio che sarà un po' stressata da questa situazione. Fatemi sapere un po' le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Dovremmo riprovare a, diciamo, far avere un bambino a Lotti, oppure fare le cose con calma e prima lasciarli sposare, anche perché comunque sarebbe bellissimo vedere Lotti col pancione durante il suo matrimonio. Questo non ve lo nego, però già questa cosa del concepimento fallito ha lasciato un po' triste Lotti, ma allo stesso tempo, diciamo, lei non si è amareggiata perché ha detto, vabbè, sarà capitato nel momento sbagliato, magari quando sarà un giorno. Magari potrò averlo davvero un bambino. Mamma mia. Dunque, abbiamo tra l'altro completato buona parte degli obiettivi della Carly Legacy della prima generazione. Tra l'altro abbiamo fatto amicizia con l'eremita e adesso non ci resta altro che sposare un sim con il tratto amante dell'aria aperta, completare l'aspirazione di natura e botanista freelance, siamo già un po' un punto, massimizzare il giardinaggio, già l'abbiamo fatto, benessere, dobbiamo farlo ancora, e anche erboristeria, e raggiungere il livello 10 della carriera. Abbiamo un bel po' di cose da fare, ma sicuramente il prossimo passo della lista sarà quello di sposare il nostro sim col tratto amante dell'aria aperta, ovvero Dustin. E nulla, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se si lasciate tanti piaci e commenti, ci vediamo nei prossimi video, un bacio e... Ciao!